Due vittorie nell'ultimo turno da parte di entrambe le compagini che arrivano cariche all'appuntamento. Limo Lissi in esterna si è rimposta sette giorni prima a Piacenza e Riccioni in casa del Sasso Marconi con risultato all'inglese. La squadra di Beoni nel suo periodo di forma migliore, i sei punti arrivate nelle ultime due giornate fanno ben sperare. La vittoria di due settimane prima con la Pistoieci aveva sigillato il primo urraio interno, la speranza è quella di ripetersi contro i Rosso-Bru, ospiti. Arbita la gara a sacco della sezione di Novara, coadjuvato a Di Minico e Amarante, rispettivamente delle sezioni di Ariano Irpino e Castellamari di Stabia. Con l'immagine di Giacomo Alpigni ci spostiamo al minuto 15, la concursione di Maness è decisamente fuori misura. Lo United replica due minuti più tardi la concursione di Barsotti respinta di piede da Dorni. La combinazione di Cozzi con Velo di Diambo porta a tiro Licasiu. La sfera si accomoda sul fondo, lo United gioca di fino divertendosi, Barsotti manda in porta a Solacu. Il numero 11 si allarga troppo realizzando una sorta di tiro a cross, occasione sprecata dai padroni di casa. Solacu si riscatta poco dopo, porta avanti la sfera sfiorando la marcatura. Lo scambio di Cassiu. Solacu porta nuovamente al tiro quest'ultimo che da posizione di filata si ripete come d'azione precedente. La squadra di Beoni è padrone del campo. Limo Lisse prova a mettere il naso fuori dalla propria metà campo, ma il tiro di Pia Federici è una comoda presa per Chiri. Più insidioso il tiro da fuori aria di Maness, anche se non inquadra lo specchio della porta. Su fin di tempo c'è gloria per il Riccione. Arriva l'Uran meritato quando Solacu penetrato in aria resiste anche a una carica, servendo a Licasu un comodo cioccolatino. Il pallone chiede solo di essere accompagnato in rete e così è festa grande per la band di Beoni. Applauso sotto lo spazio dedicato ai propri tifosi per il numero 29 del Riccione. A quarta cinquesimo il Riccione perviene alla doppio. Di ambos serve a cento l'assist del 2-0. Tiro a botta sicura di Napolitano respinto sul linea di porta con un braccio da un difensore dell'Imoleese, alias Manzoni. Espulsione per il numero 25 e dunque Imoleese in dieci uomini dal dischetto Ricozzi non perdona, mandando i padoni di casa a riposso sul doppio vantaggio. Se ne è più tempo la padronanza territoriale di Riccione e Ranetta lo è ancora di più nella ripresa. Da punizione di Ambo colpisce di test indisturbato al centro dell'area di rigore. Adorni para. Ancora United, Barsotti mette al centro, ribattuta, Licasu alza la mira. Dalla distanza ci prova Lissari. Adorni fa buona guardia. Monologo riccionese da punizione di Cozzi manda in porta in Bakogu. Pallonetto dell'ex Carpi sopra la porta difesa da Adorni. Per concludere il tiro di Napolitano respinto di piede da Adorni. L'Imoleese esce dopo la mezz'ora. L'assù di Gasperoni tra l'altro neo entrato si perde a lato. Il tiro dell'altro neo entrato Brandi arriva solo nel finale che viene trattenuto così in due tempi da Chiri. Nell'extra time Bakogu stoppa la sfera, appoggia in direzione Bontempi. Tiro da biliardo lento ma preciso che fa la barba al palo. Finisce qui. Lo United realizza l'impresa, batte la quotata di Molesi e ottiene il terzo successo di fila. Nove punti che fanno felice il tecnico Beoni al microfono di Giacomo Alpini. Sì, la squadra ha disputato un'ottima gara sicuramente contro la squadra che forse era più in forma di questo ultimo periodo di campionato. Per cui era sicuramente un impegno difficile, l'abbiamo affrontato nella maniera più corretta. Per una volta tanto come lo avevamo pensato, lo avevamo preparato, ci siamo riusciti. I ragazzi hanno disputato sicuramente un'ottima gara nel primo ma anche nel secondo che doveva essere chiaramente una partita diversa. Ma non abbiamo corso grandi rischi, abbiamo avuto ugualmente tante situazioni da poter sfruttare. Ma le situazioni sono state tante per poter fare anche il terzo. Poi non le abbiamo concretizzate ma era chiaro che in quel secondo tempo era più importante non dare spazi, non subire, non rimetterli in partita. E su questo direi che siamo stati correttamente in campo. Ma la do sul lago come la do tutti gli altri perché si sono stati tutti i giocatori che hanno fatto la loro parte sul lago. Aveva quel compito di essere pungente e di dare fastidio su certe situazioni alla loro difesa. Ci è riuscito bene e gli va dato sicuramente merito a lui come va dato il merito agli altri di aver fatto quello che dovevano fare. Grazie. 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 Grazie.